Questo video riguarda i migliori 3 Abat Jouer. Il vincitore della qualità è l'iVond Set di Lampada. I set di Abat Jouer da comodino moderne con sensori tattili integrati possono essere facilmente accesi barra spenti e regolati su tre livelli di luminosità con un semplice tocco su qualsiasi parte della base della lampada in metallo. I set di lampade per camera da letto sono regolabili con luminosità controllata al tocco, bassa, media e alta. Per soddisfare le diverse esigenze di andare a dormire, uso quotidiano, lettura, studio, lavoro, ecc. Le lampade da lettura sono dotate di una porta USB per permetterci di caricare i nostri telefoni, Kindle, auricolari, altoparlanti Bluetooth, iPad facilmente alla massima velocità. Due lampadine a LED e 27 dimerabili gratuite sono incluse nella confezione. Le lampadine a LED prive di sfarfallio sono 4000K di luce calda naturale e un massimo di 40W, che si illumina di più bianco di giorno e più caldo di notte. Il paralume in tessuto a forma di ombrello crea un senso di eleganza e classico. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è l'elincume lampada da scrivania. Questa lampada da scrivania può essere spostata in qualsiasi forma, utilizza strutture in legno massello di alta qualità, l'intero artigianato a mano, il moderno stile nordico, la creatività unica. Il design della lampada è molto personale, un'area luminosa più ampia, più luminosa, morbida, resistente e naturale. Inoltre, la postura della libreria può mettere libri, l'illuminazione è per la lettura. Umanizzare l'accogliente design della luce offre una lettura migliore, una vita migliore e un ambiente migliore. Se la lampada è accesa o no, farà una dichiarazione nella tua casa grazie alla sua forma insolita e al suo equilibrio. Questa lampada da scrivania creativa è adatta per qualsiasi stanza, così come la lampada da comodino, provalo con il tuo ufficio, stanza o ufficio, mai obsoleto. Regalo ideale per le vacanze, regalo di compleanno. Il vincitore del premio è l'Auxmere luce notturna. La luce notturna può essere attivata barra disattivata barra cambiata facilmente toccandosi al sensore intelligente sulla parte superiore per più di 3 secondi che il telecomando. Esistono 3 modalità di illuminazione, flash, strobo, dissolvenza, 13 colori chiari e 5 livelli di luminosità bianco-caldo. Cambia la modalità colore semplicemente toccando la parte superiore di questa lampada a LED o con il telecomando. La lampada da comodino tattile offre un bagliore morbido e rilassante a 360 gradi. Morbido e mai troppo caldo, luminoso senza cura del calore a LED. La luce costante e calda è una scelta sicura e ideale per i bambini di tutte le età. La lampada è dotata di una luce LED da massimo 1,6 W, dal consumo energetico estremamente ridotto, con la batteria a litio ricaricabile da 1800 mai che può essere alimentata tramite un cavetto micro USB. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.